Avevamo anticipato nella trasmissione anche in FanoTV del 1 di marzo che sarebbero arrivate queste bollette e purtroppo in questi giorni sono arrivate, sono in consegna e presentano degli importi per alcune tipologie di utenze rilevanti, quindi abbiamo sentito la necessità di organizzare un incontro il giovedì 4 di aprile a l'ora 21 presso la Mediateca Montanari dove spiegheremo l'entrata in vigore di questa delibera e l'impatto economico che ha determinato oltretutto siamo di fronte a una bolletta molto complessa perché contiene un conguaglio e un ricalcolo quindi diciamo una restituzione economica di quello che è stato fatto l'anno scorso e un ricalcolo nuovo quindi è anche una bolletta difficile da leggere per cui necessita una spiegazione aggiuntiva Ecco ribadiamo però un concetto, non è che una vostra pensata, voi vi siete trovati a dover applicare qualche cosa che viene dall'alto, specifichiamo bene Ci mancherebbe, no, lo specificheremo anche il giovedì che purtroppo è una normativa nazionale data da RERA che l'autorità di regolazione d'energia e reti ambiente la quale ha disposto questa delibera la quale ASET deve ottemperare senza mettere una qualsiasi ente collegata a noi Quindi è su tutto il territorio nazionale che c'è questo ricalcolo delle tariffe, non solo da noi? No, è su tutto il territorio ovviamente, quindi in tempi differenti ma è su tutto il territorio nazionale